Matteo Messina Denaro è quello che incarna le anime mafiose. L'ala militare e stragista è quella che, inabissandosi, ha nascosto meglio le sue connessioni di potere. Lui per questo, capo dei capi, lo è già, al di là del fatto, se comanderà anche a Palermo, perché è forte del potere che mantiene a Trapani. Lo afferma il PM della DDA del capoluogo siciliano Antonio Ingroia, riguardo lo scenario successivo alla cattura, esattamente una settimana fa, di Salvatore Lopiccolo. Le commissioni all'ombra di Messina Denaro, riflette il magistrato, sono quelle che portano addosso un certo odore di soldi, appalti pilotati, imprese a disposizione, tangenti per politici e funzionari. Fino a quando, in Sicilia, a controllare i flussi di denari che arrivano saranno i soliti complici, il futuro di Cosa No si è assicurato, in quanto sistema criminale, in grado di interagire con altri poteri. Così è urgente che l'antimafia abbia una strategia e l'imprenditoria deve approfittare di questo momento per staccarsi al potere criminoso. Ci sono segnali, così come spero che ci siano i politici che decidano di compiere atti di coraggio per dotare magistrati ed investigatori di leggi e mezzi, perché in questa partita tra legalità ed illegalità, la squadra della legalità deve avere uomini pronti in tutto il campo e una panchina lunga, soprattutto oggi che la squadra dell'illegalità è rimasta quasi senza riserve. E intanto prosegue la ricerca degli uomini della squadra mobile per trovare il covo in cui lo piccolo ha troscorso l'ultimo periodo della sua laditanza. Fin dalle prime ore del mattino, gli uomini guidati da Piero Angeloni, con un telecomando trovato nella villetta della cattura giardinelle e un mazzo di chiavi da porta blindata, sono alla ricerca di un immobile usato dal boss.